cari amici del nostro canale youtube e non solo benvenuti e benvenuto un po' con le spalle aperte benvenuti vai benvenuti così apri benvenuti benvenuti che giorno è oggi oggi è l'8 marzo e sarebbe? e sarebbe la festa delle donne ah che belle le donne eh senza donne non ci si può stare è vero io mi sveglierei nemmeno la mattina eh? niente io non mi addormenteria per niente e tu nemmeno ti addormenteresti? no sempre sveglio è vero bravo ma facciamo questo video un po' per raccontare anche qualcosa no? è una bellissima giornata una fantastica giornata e va celebrata chiaramente la donna della tua vita lo sappiamo tutti chi è? 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 chi è il nome? Maria più forte Maria più forte oh mi rompo tanti coglioni Maria e basta non è il posto di Danforte se no viene qua ah perché la nonna dorme quindi questo è anche un po' live no? se no viene qua però dillo il nome Maria eh è Maria 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 nonna Maria chiaramente oh eh 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 dormimo? no sto sveglio io tu mi sai che sei un po' appisolato? se se ma tu non pensa per te ma tu quante donne c'è avuto? queste sono cose che non si dicono dai quante donne c'è avuto o no? non si dicono o no? ma fatti cazze tui ah queste donne meglio col pelo o senza? ah col pelo col pelo col pelo ma come il pelo? è più lunga e meglio perché? eh perché? perché hai adesso col pelo quindi con la donna? si è nata se vede che c'è da sta tu vuoi tagliare? ma perché impicciano? ma non impicciano niente quindi a proposito di donne a proposito di pelo mi devi raccontar quell'aneddoto di spiaggia? steva al mare eh a Riccione eh e vicino a me c'era una con un figlio in piccolo giovane una bella una mora ma bella eh e fanno stermare che fai? ste a pia al sole e fa il bagno eh che fai? ste a pia al sole e questo è uguale pia al sole c'aveva un costume che gli scappavano i baffi dalle parti e guarda 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 capirei allora guarda 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 quando a un certo momento toccava agita l'acqua dimmi ma a forza di guardà che? a forza di guardà che è successo? eh a forza di guardà a forza di guardà che è successo? a forza di guardà si erano alzate le sbarra del pazzale ah si era alzata la sbarra e è andato sull'acqua per smorzare i bollenti spiriti e beh e beh è tornato tutto a posto? e per voci? fai senti un po' ma basta che sto fermo abbiamo raccontato un aneddoto delle donne eh cogliamo l'occasione per fare gli auguri vero? certo ma per fare gli auguri si vuole un fiore speciale è vero? prova a fa così eh? che è questo? ti puoi fare così ma fai con un schiacco schioccato oh io ho già un po' dai vai 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 facci oh no ma così che era appiccinato oh da me mi rompi tanti coglioni no sta buono sta buono ma spera l'ultima riprovamola no no provo a fa così vai tre come dai tre due uno Eccolo Guarda La mosa Auguri a tutte le donne Così fa schifo Non arriva Auguri a tutte le donne Prova a fare con la testa destra o sinistra Auguri a tutte le donne Ma il destra o sinistra l'hai fatto? Mamma di sciacqua di coglione Aspetta 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 l'ultimo Allora Prova così Prova con me con la testa Ondula Ondula Auguri a tutte le donne Vai Auguri a tutte le donne Oh Tu sai che la fa? E la mia appuntura No Tanti auguri Continuate a iscrivervi Ciao È partito Mi raccomando Ciao coccodrilli Ciao coccodrilli soprattutto Vi vogliamo bene